Come si impara a convivere con il male? Appunto, si deve fare i conti col fatto che esiste e in parte che esiste anche in noi e quindi insegnare a non dividere nettamente, non pensare noi siamo gli angeli e gli altri sono i demoni perché non serve, anzi ci fa abbassare la guardia.